Buongiorno a tutti, vi parlo di dimagrire, un numero dedicato all'acqua, se voi sapeste quante discussioni abbiamo fatto con gli esperti, con i nostri esperti, con i nutrizionisti, con i nostri psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, ogni numero di dimagrire ha intorno a un'equip di persone che hanno a cuore le cose da dire perché si possa dimagrire per davvero e naturalmente riteniamo io gli esperti di tutto il gruppo di dimagrire che la cosa più idiota che si possa fare è contare le calorie, stressarsi con questo lo mangio, questo non lo mangio, criticarsi se si mangia un cibo che non si dovrebbe mangiare, insomma l'acqua per ricordare che l'acqua è quanto di più mobile esiste, si parleremo moltissimo delle acque come associarle, del loro potere depurativo, ma se volete dimagrire per davvero ricordatevi dell'acqua, chi ingrassa tende a vivere in un'acqua che è diventata molto 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 ferma, mentre se si vuole dimagrire l'acqua deve essere un'acqua che scorre, come l'acqua della sorgente. Cito il caso di una signora, Clara, che mi scrive per dirmi, dottore io ingrasso perché ho sposato l'uomo sbagliato. Tanti sono convinti di aver sbagliato partner e attribuiscono al partner sbagliato la causa dell'or ingrassare del sovrappeso. Se però la mia mente si sposta su chi mi fa ingrassare, io non dimagriro mai. Ecco questa è l'acqua lenta, l'acqua statica che porta delle conclusioni abbastanza semplici. Se mio marito è l'uomo sbagliato e io continuo a viverci e ingrasso per colpa sua non dimagrirò mai. Invece io insisto molto e mi piace parlare del caso di Tamara, che mi ha scritto nel mail bellissima, che è riuscita a dimagrire dopo trent'anni di pastiglie, di diete, semplicemente facendo cosa? Immaginando più volte nella giornata lei magra. Non si è interessata al marito sbagliato, ai figli con cui aveva un rapporto difficile o al lavoro che non le piaceva più di tanto. No, si è soffermata esclusivamente sulla sua immagine. Tutte le volte, seguendo i nostri consigli, nella giornata più volte chiudeva gli occhi e diceva adesso mi vedo con il mio corpo magro, il mio volto di ragazzina contenta con quel vestito che gli uomini si voltavano. E si è ricordata di un consiglio che io tengo tantissimo che è questo. Qualsiasi cosa è accaduta, qualsiasi sia il motivo che ti fa ingrassare. Esci dalla scena, esci dalla scena e immagina te stessa col vestito che ti piace. Cambia il personaggio. Il cervello, se noi cambiamo personaggio, incomincia ad attivare delle sostanze chimiche che sono le stesse dell'acqua che fluisce. I pensieri ricorrenti, i lamenti, l'autocritica invece fanno parte di quell'acqua paludosa che dicevamo prima. oggi mi vesto più da bambina, cambio look. Oggi dentro di me cambio nome, anziché Rossana mi chiamo Mariella. Questo serve a portare il cervello in un'altra identità. Un'altra identità vuol dire aprire le porte automaticamente ad un'altra immagine di sé. È l'immagine di noi che ci fa cambiare e dimagrire. Non gli sforzi. Non gli sforzi. Immaginati un'altra biancheria intima. Immaginati un altro vestito. Immaginati un vestito più osè. E lo indossi anche per te sola se vuoi. Dieci minuti, poi ti cambi. Immaginati come una donna che piace a se stessa e che piace. Basta autocritica, sono troppo grassa, non vado bene, non piacerà nessuno. Basta il lamento sul marito e sul parte sbagliato. Ciò che è determinante è guardarsi nella propria bellezza. Allora si attiva, avrebbero detto i greci, la dea della bellezza che è un'energia. Afrodite è un'energia. È quell'energia della bellezza che ci fa dimagrire. È l'energia dell'acqua. Buona giornata a tutti e buona lettura.